Il nuovo mezzo Rescue Project ideato da TR Boat e Rescue Project, è un mezzo interessantissimo per il soccorso, può lavorare in fiume e in alluvione, vediamo un po' le dimensioni, lunghezza 4,15 metri, peso da 120 a 160 kg, dipende dal motore, larghezza 2,6 metri, cavalli motori, si può montare da 8 cavalli a 40 cavalli, profondità elica 25 cm, diametro tubolari 55 cm, ruote diametro 38 cm, lunghezza remi 2 metri, tubolari naipalon da 1.670 oppure si può scegliere anche i 2.200, tubolari smontabili e possibilità di acquistare solo un tubolare nel caso si dovessero rompere gravemente. Protezione elica, ancora galleggiante per uscire dai buchi, teli per trasportare le persone, nuovo sistema per hissare il motore ideato da TR Boat, durante la navigazione si può scendere e trasportare più di 8 persone, va bene anche in traino e soprattutto questo mezzo è estremamente importante da utilizzare in acqua su difficoltà interessanti, si può imbarcare e sbarcare ovunque grazie al poco peso. Questo è il progetto Rescue Project TR Boat. Tante sono le tecniche di navigazione che si devono imparare per poterlo utilizzare, infatti questo mezzo verrà venduto solo con i corsi fatti dalla scuola Rescue Project.